Ben ritrovati ad un nuovo video. Un nuovo appuntamento con, in primo piano, la rubrica di approfondimento dell'altro Corriere TV. Come spesso accade quando tocca a me presentare la rubrica, parliamo di musica e di spettacolo. Lo facciamo però con un ospite, anzi due ospiti inediti. È la prima volta che arrivano nei nostri studi, però l'occasione è giusta perché da una parte devono ovviamente farsi conoscere al grande pubblico, ma è l'occasione per lanciare il loro nuovo inedito, un brano che avremmo modo poi di raccontarvi. Grazie proprio a loro e allora li presentiamo, Francesco e Tommaso dei Santa Teresa. Ciao Fabio. Santa Teresa, io partirei proprio da qua. Perché Santa Teresa? Santa Teresa perché è la piazza di Cosenza dove è a centro, dove trova fulcro la movida appunto cosentina della nostra fascia d'età, più o meno, qualcosa un po' più giù, qualcosa un po' più su, ma siamo lì. Abbiamo scelto questo nome perché è un nome abbastanza identificativo, un nome che può rappresentarci, un nome che custodisce le nostre amicizie, i nostri luoghi, i nostri amori, le nostre serate, le nostre giornate. Quindi ci tenevamo a portarci dietro e ad inserire nel nostro progetto un qualcosa di abbastanza identificativo, una cosa che sentivamo propria, personale. Abbiamo così voluto mostrare il nostro attaccamento al posto, alla piazza e anche a tutta quanta la città, naturalmente. Io prima ho detto lanciano il loro inedito, ma soprattutto si aprono al grande pubblico. In realtà sono straconosciuti a Cosenza e non solo, suonano spessissimo, dovunque, in qualsiasi locale nostro passo. E vi trovo sempre lì a suonare e a cantare. Però, voglio dire, la vostra storia nasce, se vogliamo, anche grazie alla pandemia, o comunque in un periodo non particolarmente facile, dove le persone invece si dividevano, invece di riunirsi e ritrovarsi. Sì, è stato un periodo comunque che per tutti ha creato dei cambiamenti. Noi abbiamo colto la palla al balzo, anzi, ci sono alcuni testi che portano anche questa nostra repressione di questo tempo, che poi ci ha portato avanti a riportare per noi l'esigenza di suonare, di portare avanti una musica e anche dei testi che abbiamo tenuto troppo stretti, come ci siamo tenuti troppo stretti noi in questo periodo. Quindi, in quel momento siamo nati e non vedevamo l'ora poi di uscire fuori nel momento in cui si potesse appunto suonare all'aperto. Come siete trovati, Francesco? Totalmente a caso. Completamente a caso è la verità. Questa è una cosa molto bella che io ripeto spesso quando mi viene chiesta. I Santa Teresa ad oggi sono cinque fratelli, perché tra di noi per fortuna esiste una sinergia bellissima di cui siamo abbastanza orgogliosi. Ma prima di questo passaggio eravamo cinque estranei che si sono conosciuti con un tramite, che è un ragazzo che si chiama Matteo, che conosceva me e conosceva Tommy e suo fratello. Si vanta ancora di questa cosa. Lui si vanta di questa cosa. Lui è convinto di essere quello che ha fondato, No, no, fondato Fuso, tra di loro i Santa Teresa. E poi ci siamo appunto ritrovati, eravamo degli sconosciuti. Una persona ha chiamato Tommaso, Tommaso ha portato il fratello, poi hanno chiamato gli altri due, tre, veramente non sono qui adesso con noi, e ci siamo trovati. Ed è stato bello perché non avevamo storie in comune, non avevamo un passato in comune. È stato tutto quanto un continuo scoprire. Questa cosa ci è piaciuta. Magari qualora fossimo stati cinque amici per la pelle sarebbero potuti nascere, non lo so, delle incomprensioni. Invece il fatto di essere tutti quanti, di vivere tutti il giorno zero della nostra amicizia, secondo me è stato abbastanza carino per il divenire della band. Li citiamo tutti perché, insomma, per una questione anche di impegni, non tutti siete qui oggi presenti. Chi sono gli altri membri di Santa Teresa? Allora, il chitarrista Pietro, l'altro chitarrista Andrea e poi alla batteria Christian. Diciamo, ci seguono da sempre in questa battaglia, diciamo, tra di noi e battaglia dentro la piazza, perché siamo amici non solo in Zalaprove, ma anche dentro la piazza stessa la viviamo. Abbiamo insegnato a viverla insieme, oltre a suonare. E condividete tutto, anche i social, ho visto la pagina social. Condividiamo tutto, sì, purtroppo. Siamo costretti a farlo, no scherzo, è bellissimo condividerlo con loro. Io mi auguro che questo forte legame possa continuare, perché in qualche modo è stata la forza maggiore. L'aiuto più grande che ha ricevuto la band è stato proprio questo forte legame tra di noi, che io mi auguro possa andare avanti per il più tempo possibile. Un legame che è anche musicale, no? La passione per l'indie, giusto? No, non c'è un legame musicale nel tempo. È un legame che si è creato col tempo, perché eravamo figli di probabilmente cinque esperienze musicali diverse, con cinque generi preferiti diversi. Però anche in questo caso, come si suol dire, ci siamo incontrati a Teano. Cioè abbiamo messo insieme un po' di roba, ognuno ha fornito la propria esperienza, è venuto fuori un qualcosa di carino, un qualcosa che appunto è succo e frutto di un mix, di generi, di passioni, di interessamenti e di stili musicali differenti tra di loro. E quindi anche il progetto musicale sarà una contaminazione, adesso parleremo del vostro singolo, ma è una contaminazione. Questo ci ha aiutato, nel senso gli ascolti diversi, il modo di pensare diverso ci aiuta sia nei testi che nella musica, perché da una parte ricerchiamo della musica legata a degli ascolti nostri, ma anche che vanno al di fuori dell'oceano, quindi verso ascolti anche più british, oppure la musica inglese, americana, mentre per quanto riguarda i testi siamo molto legati non solo al territorio, ma anche all'Italia in generale, quindi quello sì è Indy, rispondendoti a quello che poi portiamo avanti nelle nostre tematiche. No, perché dicevo Indy perché mi è capitato di ascoltare dei vostri brani e ritrovavo insomma quel sound, quella radice. Invece il nuovo Del Piero si chiama Del Piero? Si chiama Del Piero. Perché? Si chiama Del Piero, lo stiamo specificando ogni qual volta ci viene chiesto. Non è un Del Piero da associare necessariamente al bianconero, è un Del Piero da vedere come un Totti, come un Zanetti, come un Maldini, sono gli eroi della nostra generazione. Magari adesso i ragazzini, i bambini hanno delle figure diverse, possono avere il poster in camera di Neymar purtroppo direi, invece noi siamo quella generazione, una delle ultimissime generazioni romantiche nati tra il 90 e il 2000, quindi il poster in stanza del capitano, della bandiera, della leggenda, le figurine. Ma anche della nazionale, anche per chi è poco tifoso. E visto più come simbolo di una generazione, come il Del Piero capitano della Juventus. Anche perché la fede calcistica comune dei cinque è quella rosso-blu. Poi ognuno ha la sua... Che è del cosenza. Chiaramente, sì. Non volevo proprio dirlo, però... Poi è chiaro che ognuno dei cinque ha la propria fede per quanto riguarda le squadre di Serie A. Quindi noi abbiamo immaginato questo Del Piero come appunto un'icona. Un'icona del passato che si ritrova nel presente, essendo lui molto attivo, molto social. Comunque... Apprezzato da tutti, tra l'altro. Apprezzato da tutti. E quindi abbiamo preso questa immagine, che è questo gol a giro sul secondo palo. Il gol alla Del Piero, per chi non... Magari non è proprio espertissimo. Paragonandolo, utilizzandolo come metafora, cioè aspettare un gol alla Del Piero, quindi un colpo di genio improvviso, paragonato a una relazione, a una lei o a un lui. Poi è normale che... Chi vuole può trovare in questa lingua citata nel brano la lingua di chiunque voglia, della propria crush. Possiamo dire così. Che porta alle sultanze, diciamo. Che porta alle sultanze. Più volte ripetete, giustamente, no? La nostra generazione è la nostra generazione. Siete giovanissimi, è chiaro ed evidente che chi come me era abituato da piccolo a vedere i film in VHS non si può mai ritrovare in chi come voi. Aveva già il Blu-ray in mano, probabilmente. Però, dal punto di vista musicale, è cambiato tanto. Sono cambiate le tecnologie, è cambiata la possibilità e l'approccio alla musica. Prima era molto più difficile e molto più costoso, se vogliamo. Adesso ci sono delle piattaforme libere che ti permettono di fruire di musica. Oggi io dico sempre che non informarsi, non ascoltare musica, non leggere, non guardare determinati approfondimenti è una scelta. mentre prima, purtroppo, così non era. Perché, insomma, in molti non avevano veramente accesso. E allora vi chiedo come è cambiato e se è cambiato il vostro approccio alla musica con una tecnologia che cambia giorno dopo giorno e con i social anche che cambiano giorno dopo giorno. Perché ci sono ovviamente delle nuove, dei cambiamenti anche sulle piattaforme social, nuovi social che si affacciano e che poi spopolano e prendono magari il posto di quelli. Diciamo che noi siamo una band più VHS che tu. Partendo da questo presupposto che per noi è fondamentale anche quello ascolto un po' vintage perché siamo nostalgici, questo lo dobbiamo dire. Siamo un gruppo di persone che ascolta Vinili, che ricerca il Walkman, che però lo vogliamo riportare nella modernità. Questo è vero. Sfruttiamo molto il fattore social per noi stessi, ma nel senso che adesso il canale che ci dà la possibilità di esprimerci. infatti la nostra scelta è stata subito questa. Nel senso che noi teniamo molto ad avere e da subito a ricercare Spotify come altri canali digitali, a favorire diciamo quella che è la promozione della nostra musica. Perché sappiamo che in questo momento è palese che per quanto sia bello un vinile è bello un disco. è la cosa più istantanea e dà la possibilità di farci ascoltare a chiunque. Tra l'altro anche di misurare i risultati, perché una volta le misuravi solo con gli acquisti dei dischi. Probabilmente sono due sistemi diversi, diversi appunto nelle modalità negli anni in cui sono stati sono nati e sono stati creati. sono diversi ma nello stesso tempo devono coesistere. Cioè è carino trovarsi tra amici a casa di Andrea e mettere su il vinile, però nello stesso tempo Spotify ci serve per poter misurare diciamo l'effetto che sta avendo la nostra musica sulla nostra seppur piccola fan base e devo dire che siamo abbastanza soddisfatti di queste di queste prime settimane. Piccola pagina erosa. Come è andato Del Piero su Spotify? Del Piero è uscito il 6 gennaio. È uscito il 6 gennaio siamo a più di 6.000 stream con più di 2.000 ascoltatori ma il dato più carino e particolare è che non abbiamo avuto un riscontro clamoroso dalle persone vicine. ci rendiamo conto che c'è una grossa fetta di pubblico tra Cosenza più rende di Cosenza però abbiamo anche una una grossa percentuale di ascolti e di ascoltatori che vengono da Roma e da Milano questo è il dato che ci dà il nostro Spotify for artists e devo dire che ci ha fatto molto piacere come cosa perché grazie al nostro ufficio stampa che è Cromosomi lo ringrazio anche perché insomma oggi siete qui grazie salutiamo e ringraziamo Cromosomi grazie a questo ottimo lavoro insomma questo Del Piero sta camminando un bel po' probabilmente si fermerà tra poco speriamo di no forse no ma noi siamo senza pretese siamo fermi qui ad aspettare a controllare faremo come gabbiano che poi tra vent'anni recupereranno Del Piero senti i prossimi i prossimi lavori invece senza apriamo e chiudiamo parentesi ovviamente sapete benissimo chi ci ascolta insomma è difficile spoilerare diciamo quello che possiamo fare esatto lo spoiler che possiamo annunciare è che ci saranno dei singoli degli altri singoli perché abbiamo intenzione vorremmo rilasciare la nostra musica con tanta pazienza creando un po' di hype giocando su questa cosa adesso è uscita Del Piero sta piacendo la gente per fortuna la sta ascoltando magari tra qualche settimana la gente ci facciamo conoscere pian piano può trovare qualcosa di diverso poi qualcosa di diverso ancora fino ad arrivare al nostro primo disco uscirà ancora non ha una data che ci segue live conosce più o meno ciò che aspetta diciamo al pubblico sarà una sorpresa più per il pubblico che ci ha conosciuti appunto sulla piattaforma e non sui palchi il pubblico che ci segue sotto i palchi è un pubblico che appunto questo primo disco ha già avuto modo di canticchiarlo e di ascoltarlo il primo disco sarà una sorpresa per il pubblico che abbiamo guadagnato solo ed esclusivamente dal telefono quindi dal nostro instagram dal nostro spotify e così via che poi questo potrebbe portarvi anche a suonare oltre confini regionale oltre oltre Rogliano questo è il nostro prossimo obiettivo di Roma di utenti di Roma di Firenze di Milano la possibilità per noi il live è qualcosa di fondamentale nel senso che anzi la sorpresa più grande secondo me per non è tanto per il pubblico che ci ascolta questo disco ma sarà per noi perché proprio per l'esigenza del tempo che abbiamo iniziato pian piano siamo abituati più al live che all'idea di avere un disco nostro e adesso siamo curiosi e contenti di portarlo fuori quindi sì stiamo già lavorando ci andremo a fare un girettino per l'Italia anche perché a tempo di pandemia non avete avuto nemmeno tante possibilità di esibirvi live abbiamo suonato la prima volta che abbiamo suonato è stata il 9 ottobre del 2020 poi abbiamo risuonato chiaramente ancora era un progetto tribute band quindi si suonavano due tre pezzi nostri e il resto erano chiaramente delle cover grazie alle quali abbiamo guadagnato un po' di affetto un po' di seguito abbiamo risuonato a febbraio 2021 poi abbiamo risuonato a maggio cioè quindi è stato tutto molto altalenante però noi non abbiamo mollato cioè noi abbiamo sperato di poter vivere un momento in cui non esistevano più queste maledette restrizioni il periodo di pandemia inevitabilmente ha creato in ognuno di noi ha scatenato in ognuno di noi delle cose non bellissime cioè ci ha dato la possibilità di riflettere di soffermarsi sulle sulle proprie caratteristiche però è stato anche duro da sopportare però sposava e legava perfettamente con questo percorso musicale perché poi si sa la sera esco vado lì c'è il concertino sto là mi diverto e ho la possibilità di recuperare pian piano il mio rapporto con con la vita sociale tra l'altro concertino ragazzi voi suonate tanto io vi ho visti suonate tanto la musica è cambiata anche in tv con l'avvento dei vari talent anche Sanremo negli ultimi anni dobbiamo dire la verità ha rivoluzionato un po' la scaletta classica quindi meno cantanti big come li definiscono loro quindi con un curriculum abbastanza lungo e pesante e spazio anche ai giovani anche agli artisti meno conosciuti che erano ora diciamo è quello stava arrivando proprio a questo la musica è cambiata anche in televisione dal punto di vista perché molti dicono no oddio quando sento X Factor o gli altri talent amici no per carità io preferisco continuare a cantare al suonare la mia musica senza partecipare ai talent talent sì talent no Sanremo sì Sanremo no se dovesse io devo dire che l'assonanza Sanremo Santa Teresa è anche simpatica non si può diciamo non ci precludiamo nulla anzi sarebbe un onore più Sanremo sì diciamo ma ti presenti con gli occhiali tipo Darjun assolutamente sì perché Ciccio suona con gli occhiali da sole è rigorosa non si può fare altrimenti non si può fare altrimenti ci stiamo adeguando anche noi pian piano saremo tutti e cinque prima o poi con gli occhiali da sole probabilmente talent no per il semplice motivo che come diceva giustamente prima Tommy adesso c'è bisogno di andare a suonare fuori dalle mura amiche quindi andare nel barettino nel posticino in giro per l'Italia e portare la nostra musica e fare in modo di rubare quelle quattro cinque dieci persone a volta quindi probabilmente talent no Sanremo credo che sia da sciocchi dire no è normale che è un sogno proprio perché non è più come ben dicevi tu prima non è più il Sanremo dei nostri genitori dei nostri zii dei nostri nonni è un Sanremo abbastanza a passo coi tempi a passo coi tempi il problema è che io ho paura di portare gente del genere in un posto come Sanremo perché gente sfacciata cioè loro non riescono a parlare con nessuno perché poi è un attimo che si 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 aspettano va quindi io immagino affianco ai big della musica italiana lui il fratello e gli altri due una situazione ingestibile ragazzi siete simpaticissime siamo quasi alla fine io vi chiedo come vi trova un utente un fan dei Santa Teresa che ancora non lo è però quindi come fa a trovarvi scrivendo Santa Teresa su Instagram lasciando un 1 alla pagina che è semplicissimo e rapidissimo per ascoltare la musica e cercando Santa Teresa sui digital stores non necessariamente spotify ah ok invitiamo a seguirci sui digital stores proprio perché qualsiasi uscita prossima diciamo può essere meglio allertata sarà tutto comunicato lì insomma se seguono se ci seguono hanno lo schema ben preciso di quelle che saranno le prossime tappe se li avete vi chiedo i prossimi appuntamenti così vi diamo prossimi appuntamenti non ne abbiamo non ne abbiamo proprio perché vogliamo soffermarci sul lavoro sono digitali ok sul lavoro siamo appuntamenti in studio esatto prossimo appuntamento in studio scriveremo che ci vedremo che ci vedremo in studio e ci vedrete in studio l'altro corriere di voi sull'altro corriere grazie Santa Teresa grazie a voi a Francesco e Tommaso grazie davvero di essere stati qui ovviamente li invitiamo a ritornare in studio con i nuovi i nuovi singoli speriamo il disco presto lo presentiamo qua in vinile ma sarebbe lo facciamo lo regalo personale assolutamente va bene ok ringrazio anche Francesco di Cromosomi per la pazienza e la disponibilità ringrazio Susanna in regia ringraziamo anche la nostra etichetta che è la lumaca dischi che ci dimentichiamo sempre per fortuna ce l'abbiamo fatto te lo sei ricordato la lumaca un bacio ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.